Dritto al punto, avrai bisogno fior di latte wafer al cioccolato a scelta e panna acida Disporre il dulce dell'Eca in un piatto e aggiungere la panna Mescolare bene fino ad ottenere un composto omogeneo In un altro piatto, spalmate la crema realizzando il primo strato Macinare con le mani la cialda al cioccolato stendendola e realizzando lo strato successivo Se finora ti è piaciuto, iscriverti a questo canale e mettere mi piace a questo video è molto importante per me Spalmate e ripetere gli strati alternando panna e cioccolato e ripetere gli strati alternando Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.